Secondo me gli incontri a Roma non esistono, sono un'invenzione di Magorno per cercare di allagare il campo, siccome non è in grado di individuare un candidato alternativa a Oliverio, più forte di Oliverio, perché aveva puntato su se stesso ma evidentemente gli è andata male, fince di incontrarsi con qualcuno a Roma, ma per fortuna c'è il 2, c'è l'Assemblea regionale e lì le questioni saranno poste tutte sul piatto. Diretta e inequivocabile la posizione dell'onorevole Enza Bruno Bossio, che è intervenuto alla festa dell'unità a Paola, ha chiarito la propria posizione, ribadendo che se il PD dovesse perdere le elezioni regionali, la responsabilità sarà solo ed esclusivamente del segretario regionale del partito Ernesto Magorno. E Mario Riverio, anche egli presente all'evento, ribadisce che le primarie sono state votate all'unanimità dall'Assemblea, dunque assurda questa querelle. C'è qualcuno che invece non vuole le primarie, che non è il PD, c'è qualcuno anche del PD, che evidentemente non vuole le primarie per impedire la mia candidatura, questo ormai lo sanno anche i bambini in Calabria e sta giocando a sporco. Naturalmente non passerà questo disegno, le primarie ci saranno, si anticiperanno o al 14 o al 7 di settembre per avere la possibilità di far coincidere le elezioni regionali con quelle della città di Reggio Calabria. Prossima tappa è la riunione dell'Assemblea regionale del partito, convocata per martedì 2 settembre, che sarà presieduta dal Vice-Segretario nazionale Deborah Serracchiani, per stabilire modi e tempi delle primarie di coalizione.